la fondazione di roma giorno e anno basta augusto e sito stai il sito va bene tocca a me spiegare va bene sito dovete fare silenzio tutti i siti elisa tu che sei la spesa la rappresentante di questa classe devi far stare zitti tutti state zitti per favore silenzio che il potente prof deve spiegare bene lisa zitti tutti l'anno è il 753 avanti cristo come vi ho spiegato c'è un trucco per memorizzare bene l'anno 753 sono tutti i numeri disperi in ordine discendente 753 adesso vi dico giorno 21 aprile grazie grazie della vostra attenzione e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ciao ciao